buongiorno a tutti ecco qua il prossimo cantiere che andiamo a visitare oggi dunque lavori gioco dell'oca torneo dei borghi progettista dell'opera luca ilaria calcolatore vari eventuali esecuzione dell'opera la ricarica dato inizio lavori 23 giugno 19 30 quindi pochissimi giorni proprio lavori in corso andiamo a vedere il cantiere beh qua c'è una gru dove c'è un rappresentante del borgo strasoldo poi alla direzione della gru c'è la rana delle piazze sta trasportando una mucca di scodovacca e poi vedete che ci sono dei carichi pesanti no la capoia e la turisella supervisione della della madonnina eccoli qua i due ideatori e progettisti lassù si si lo benissimo altri muratori dormono ma vediamo chi alla gru ma è beccato non potrebbe essere che il pradulin benissimo e quindi questa è la mission cacchio ma dove l'ho vista sta locandina qua fantastica quindi primo appuntamento miei cari venerdì 23 con gonfiabili e giuoco dell'oca e grandissima sorpresa finale a tutti i partecipanti pasta asciutta il giorno successivo ciclo longa e marcia longa con partenza da muscoli ancora pasta asciutta e poi il calcio balilla umano e non resta che esserci quindi giocando a cervignano rock and roll qua lasciamoli lavorare e possippo un oppo ciao ciao